ciao a tutti e questo non sarà il mio video che so che fonde di solito dove che mangio la roba come cosino ma sarà un video dove che dovrò ringraziare del cuore veramente del cuore le forze dell'ordine di caramia dell'ignago perché oggi gli intervenui dopo le mie chiamate gli intervenui in maniera tempestiva assolutamente velocissimi perché vi racconto praticamente oggi pomeriggio dopo che sono stata via due giorni a Pese i cagnetti poi avete vado a vedermi li devo portare in casa un attimo mi chiedebessimo le portami in casa e li devo portare in casa un secondo cos'era la porta se non è un attimo lavarmi le mani qua e là è praticamente mi entra una banda di quattro luamari dei marocchini estri comunitari nella mia proprietà rubandomi il motore della barca rubandomi due tanniche di benzina chi poteva anche a farsi la doccia attaccasse il fuoco che per migliare la compagna rubandomi pezzi dell'idropuritrice solo le lancia cosa cazzo che infetto dovete riempirto su pari il culo ah vabbè comunque e dopo io mi avverto la Volvo per fortuna che non sono in casa le ho avverte appartume di documenti e le ho avverte se no io mi avrei spaccato anche la Volvo allora sì che mi incazzava veramente io mi avverto su tutta la Volvo mi avverto i cassettini ma c'è va dei schei spero tanto che che schei li che non con mia cattà ti spendi in medicine ma fa farti mettere bene il buso del culo dopo che ti hai inculato un toro luamaro comunque facciamo subito i carabinieri intervenio come ripeto in un modo tempestivo due pattuglie e comunque potrei riprendere tutte le scena desti quattro maledetti qua perché torno a casa ho installato 5 telecamere dove ho ripreso tutto con diverse prospettive capivo come ho potuto vedere cosa che ho fatto ho potuto riconosci i volti ho potuto vedere dove c'è e ho potuto capire chi è per una torna il palio che ho attacca solo a 600 e ho tornato a casa perché mi paura non ho e sono a tornare lì sono a pari i campi sono a tornare dopo che ho avuto i carabinieri vabbè però mai ho paura buttei torno a tornare un bel palio un bel metro del palio sai con le baiglia così grosso lo tagliate che ho piante 7-8 ciodi un po' cuscita dove che manca sbuse la testa comunque vabbè arrivare i carabinieri abbiamo controlla le case dei stili amari qua che abita qua perché il comune non fa un cazzo il comune non fa un cazzo abbiamo questi bastardi qua che viene rubati in casa il comune e se ne sbatte i coglioni faccia da culo non dico mie che faccia da culo però insomma si intuisce non mi accattava la rifurtiva subito dopo guardando per qua per là vedendo il branco del piego dei marocchini che scappava a fare i campi che ne sarà scappavinti qua dove che gira soia comunque è e ho fatto denuncia sono in casa alla ma dai carabinieri sono andate qua sono andate là ho fatto denuncia comunque alla fine per fortuna abbiamo ritrovato la rifurtiva abbiamo ritrovato il motore della barca mi dispiace di aver ritrovato la benzina come ripeti poteva farsi il bagno e taccarsi il fuoco capivo come ora della fine go catta tutto però vi dico se così come me in ste leve torno a casa 4, 5, 6 telecamere magari con sessore di movimento come le mie che va infrarossi che va tutto che suona come autovex fotografa, filma capivo come è sempre una roba fatta bene e un consiglio mio se per caso si restora e se porta aperta ma perchè mi sti bastardi qua io mi tendeva io mi tendeva io ho visto che ho portato in casa i miei cucciolotti un attimo per giocare insieme dopo due giorni i miei vedi io mi ha fatto peccato io ho portato in casa qua il mio marino e la mezzòe per fare quattro coccole io ho visto la scena io ho potuto andare tranquillamente in magazzino rubare la mia roba comunque con le telecamere vi ripeto che ho visto tutto ho visto i volti che ho visto tutto e quando che nasi da qualche parte sarei sempre a porta di casa perchè magari nasi su in camera vum vi capito in casa che ma stai qua cosa fai ok mai sottovalutare mai mai dire ma si intanto è vuoi un attimo sui giardini vuoi un attimo in garage io stai qua e sei muozi in casa come io amari vabbè comunque grazie ancora del cuore alle forze dei carabinieri dell'Ignago questa volta che ho fatto un bel oro e allora a questo punto brindiamo con un buon rabbudello e fame no perchè mi è passata la fame mi è passata ho ancora il magone sul tomico infatti adesso si vediamo un mega panino con la bondolota con 5 schede bondola alla salute e grazie mille e carabinieri dell'Ignago grazie mille è l'altro libro che io sì grazie mille grazie mille grazie mille